Hola todos, io sono Davide e voglio portarvi un video veloce veloce di un trucchetto molto potente per aumentare le vendite su ebay Scusatemi ragazzi, vi porto davvero un video rapidissimo, non odiatemi, ma tra lavoro e la casa non ho proprio più tempo In questi giorni mi trasferirò, quindi poi con calma potrò portarvi dei video molto più interessanti Quindi continuate a mettere mi piace e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Perché l'obiettivo di marzo per il canale youtube è quasi raggiunto, mancano solo 10 iscritti E ora iniziamo Questo trucchetto super potente si può fare solamente se avete un negozio ebay In cosa consiste questo trucco? Semplicissimo, lo fanno i negozi, lo fa amazon, lo fanno tutti praticamente Volete ad esempio vendere un prodotto a 10 euro? Aumentatelo a 20 e poi mettete lo sconto del 50% Però non ditelo ebay perché questo a loro non fa piacere Perché è come se stessimo ingannando il loro algoritmo Io di solito lo faccio per i prodotti che me ne devo liberare Non metto magari sempre il 50% perché è un po' estremo Di solito metto il 20% Però si può fare anche per prodotti che non dovete liberarvene Ad esempio volete vendere a 16? Lo mettete a 20 euro Percentuale del 20% Così non è proprio tanto aggressiva come un 50% La gente fa piacere, di bay fa piacere e siamo tutti contenti Dai ragazzi, questo più che video era una piccola pillola Era una piccola pillola di saggezza Ragazzi continuate con il mi piace Commentate pure qua sotto se già lo conoscevate o se lo proverete E come sempre iscrivetevi a questo splendido canale Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti